per me le buongiorno come procede l'allenamento in quota quel divino buongiorno a tutti bene diciamo che abbiamo fatto un po di prove abbiamo visto che i tempi e chilometri corrispondono a quello che era in programma inizia ad essere un pelino stanco ma ci sta perché abbiamo comunque fatto un bel po di chilometri e quindi vediamo un po cosa succede la prima tappa di coppa del mondo neve giornate bellissime veramente e via non c'è niente di meglio dacci qualche ragguaglio tecnico per i più esperti quanti quanti chilometri svolge al giorno ea che livello se livello di chilometraggio stagionale ma allora generalmente da quando siamo arrivati più o meno la mattina di sci sono sui 25 chilometri di media con un massimo di 32 32 chilometri li ho fatti in un'ora e 58 l'altro giorno che avevo un lavoro al medio e mi ha dato subito dei risultati notevoli e delle buone impressioni quindi cerchiamo di mantenere questo livello e vediamo un po cosa succede stagionalmente quante ore di lavoro svolgi ma quest'anno di preciso il calcolo non l'ho ne ancora fatto però sicuramente più di mille complimenti davvero ricordaci quando comincia il circuito di coppa del mondo e quali saranno i tuoi obiettivi la prima tappa di coppa del mondo sarà la seconda settimana di dicembre in finlandia voccati dove avremo tre gare la short la middle la sprint credo o forse la long adesso non ricordo e poi la seconda tappa di coppa del mondo l'avremo a planizza a gennaio i primi di gennaio e a fine gennaio avremo il mondiale a ostersund e l'ultima tappa si viene confermata a oluog negli stati uniti quali saranno i tuoi obiettivi provare a migliorare se stesso e vedere che cosa succede quest'anno grazie a tutti